Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati con la nostra informazione. Partiamo subito con la cronaca amministrativa. È durato solo pochi minuti la seduta odierna della massima assise cittadina. Giusto il tempo per approvare alcune variazioni di bilancio. Il sindaco Stefano ha approfittato per respingere le accuse ricevute e garantire che porterà a termine il suo mandato. Taranto come laboratorio di sperimentazione di tecnologie e modelli innovativi nel campo della bonifica ambientale. Di questo si è parlato questa mattina nel convento di San Francesco, ora a sede universitaria. È tutto pronto intanto per l'appuntamento di domani a Palazzo di Città. L'iniziativa coinvolgerà ben 125 associazioni di volontariato provenienti da tutta la regione Puglia. La parola d'ordine è prevenzione. Infine lo sport. I rosso-blu battono per 2-0 il viareggio e volano momentaneamente in vetta la classifica. Decisiva la doppietta di un ispiratissimo rentier. Salgono a tre intanto i successi consecutivi allo Iacovone. E stasera invece per il basket femminile, crassi in campo nel torneo di Istanbul contro il Galatasaray. Subito la sigla e il nostro TG. Buon pomeriggio e ben ritrovati con la nostra informazione. Lo avete sentito dai titoli. L'apertura è dedicata alla seduta di oggi del Consiglio Comunale. Una seduta assolutamente breve, una seduta lampo, durata solo pochi minuti. Il tempo, lo dicevamo, per approvare qualche variazione di bilancio. Il sindaco Stefano però ha approfittato per rispondere alle accuse degli ultimi giorni mosse al suo indirizzo da parte di alcuni esponenti politici e per garantire che porterà a termine il suo mandato fino a fine legislatura. Ma sentiamone di più. Seduta lampo del Consiglio Comunale di Taranto con 18 presenti per la maggioranza e 6 per l'opposizione è stato raggiunto stamane il numero legale che ha permesso il regolare proseguo dei lavori dopo che le due sedute precedenti della massima sise cittadina erano andate praticamente deserte rinviando ad oggi la discussione di importanti punti all'ordine del giorno approvati dall'ente di Piazza Castello. Sindaco, raggiunta la maggioranza in Consiglio Comunale i lavori della massima sise cittadina ci sono svolti regolarmente. Che cosa si sente di rispondere alle polemiche dei giorni scorsi soprattutto quella in merito all'amministrazione Stefano? C'è chi dice, soprattutto ovviamente l'opposizione, che ci sono dei problemi interni anche alla stessa maggioranza? Beh, io direi che il Consiglio Comunale di oggi ha dimostrato in maniera molto chiara che queste voci sono completamente false però quello che voglio sottolineare l'amministrazione, cioè la parte politica, il Consiglio Comunale deve tutelare i cittadini di Taranto e la città di Taranto questa maggioranza ha come primo scopo, primo obiettivo, primo dovere tutelare la città di Taranto e tutelare i diritti dei tarantini ora, di fronte a comportamenti in cui stanno ad evidenziare semplicemente, diciamo, la fragilità in certi momenti del numero che è una cosa, voglio dire, poco significativa e se vogliamo anche sgradevole per far mancare il numero legale e quindi nel tentativo di colpire questa maggioranza in realtà danneggiano pesantemente i cittadini e la nostra città è evidente che questa maggioranza si è adeguata a questo tipo di guerriglia contro la nostra città e abbiamo trovato lo stratagemma come superare questi, tra virgolette, della politica cecchini, lo ripeto e quindi abbiamo in maniera schiacciante approvato in pochi minuti come dovrebbe funzionare una sana amministrazione cioè quella che si batte a favore della propria città e dei propri cittadini abbiamo varato tutto in merito alle polemiche sollevate dalle forze di opposizione che hanno definito politicamente debole l'amministrazione Stefano il presidente del consiglio comunale di Taranto l'avvocato Ginalupo ha risposto in questo modo ogni convocazione comporta anche quelle condominali comporta una prima e seconda convocazione sono modalità perfettamente legittime quindi respingo al mittente le sottili insinuazioni che sia un modo di fare assolutamente legittimo del resto chi parla ha convocato qualcosa come 80 consigli comunali e qui giochetti o trucchetti non ne abbiamo mai fatti ricordo a chi ci ascolta che io prendo veramente sul serio il ruolo di un presidente del consiglio che è quello di garantire tutti i consigli dei comunali comprese le opposizioni che giustamente hanno da fare la loro opposizione che è lecita purché nei limiti ovviamente del vivere civile questo per quanto mi riguarda respingo anche al mittente alcune considerazioni che ho letto circa una convocazione senza i capi gruppo qualunque consiglio comunale lo dico senza prova dismentita sin dal 2007 è stata sempre anticipata da una conferenza dei capi gruppo qui c'era un motivo di urgenza che il cittadino deve sapere erano argomenti già inseriti nel consiglio comunale del 29 che già il 29 erano urgenti si trattava di tre variazioni di bilancio che se non ratificate avrebbero comportato un danno per l'amministrazione andavano a scadere oltre i 60 giorni previsti dalla legge quindi al 30 di settembre e poi vi era un importante regolamento quello che riguarda gli asili nido voi sapete le polemiche che ci sono una scuola già iniziata asili nido che già lavorano senza regolamento la cronaca sindacale con un incontro previsto per mezzogiorno di oggi a Palazzo di Città incontro con l'assessore al ramo Francesco Bardoscia per discutere dell'avvertenza che interessa le lavoratrici delle pulizie delle scuole comunali l'obiettivo è quello di trovare il modo per incrementare l'orario di lavoro delle operatrici già nel pomeriggio di sabato era stato firmato un contratto temporaneo con un lieve aumento della fascia oraria da un'ora e 40 minuti si era passati già infatti a un'ora e 50 minuti nelle prossime ore avremo aggiornamenti sull'esito dell'incontro e intanto si è costituito poche ore fa a Torino Michele Attolino il dodicesimo destinatario delle ordinanze di custodia cautelare scattate venerdì scorso nell'ambito di Octopus operazione della polizia che ha smantellato il clan Scarci l'uomo accompagnato dal suo legale si è consegnato agli uomini della squadra mobile interrogatori intanto nella tarda mattinata di oggi davanti al GIP del Tribunale di Taranto Pio Guarna degli altri 11 soggetti raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere perché accusati a vario titolo di associazione mafiosa porto e detenzione legale di armi ed esplosivi estorsione usura intestazione fittizia di beni atti di concorrenza con violenza e minaccia e pesca di frodo con esplosivi l'operazione messa a segno dalla squadra mobile della questura ionica avrebbe alzato il velo sull'attività illecita e messa in atto dal presunto sodalizio facente capo a Francesco Scarci un clan che a quanto pare stava riorganizzando la propria struttura sul territorio al fine di controllare diversi settori della vita cittadina da quello che orbita attorno al mercato ittico fino a quello del calcio gli indagati per la gran parte si sono avvalsi della facoltà di non rispondere a curare la tutela legale degli accusati gli avvocati Salvatore Maggio Enzo Sappia e Antonio Mancaniello e voltiamo decisamente pagina parliamo di Taranto come occasione di ricerca come laboratorio sperimentale in ambito ambientale sentita Taranto laboratorio di sperimentazione di tecnologie e di modelli innovativi nelle bonifiche ambientali presso la seconda facoltà di giurisprudenza nella nuova sede della caserma Rossarolo sono stati illustrati i sottosegretari all'ambiente all'università e alla ricerca scientifica Catone e Viceconte i contenuti scientifici del polo scientifico tecnologico della Magna Grecia Taranto da città più inquinate d'Europa può ambire a diventare la capitale della ricerca il governo ci crede? Beh io ho appena detto che da un danno si può trarre un utile nel centro che è il polo scientifico tecnologico è solo la prima pietra il primo passo se unite ad esperienze e opportunità che ci offre la comunità europea tipo il centro di biotecnologie marine di biodiversità marine io penso che Taranto possa ambire a diventare realmente una stella miliare in Italia e in Europa per la ricerca Recentemente è andata alla ribalta delle cronache anche nazionali il caso dei mitili contaminati da diossine e PCB e quant'altro ecco il governo cosa sta facendo per allenire questa grande sofferenza dei mitili coltori beh indubbiamente io credo e ho appena lanciato una proposta che è la stessa che abbiamo adottato per Pescara per la chiusura del porto nazionale di Pescara è stata quella di affidare al prefetto l'incarico di riunire un tavolo istituzionale in cui siano presenti tutti dalle classi produttive alla regione alla provincia ai comuni alle università a praticamente tutti i responsabili con l'affiancamento indubbiamente di quelle che sono le capitanerie di porto perché indubbiamente sono coloro i quali vivono e vigilano sul mare per cercare in un'unica riunione un'unica potrebbero essere due o tre di risolvere la problematica e trovare soluzioni soluzioni all'immediato fa bisogno per la mitricoltura e soluzioni progettuali per un futuro il governo come interviene in questo processo in questo progetto noi interveniamo cercando di finanziare quello che l'iniziativa che nasce intorno al tema dell'università di Taranto che dovrà coinvolgere anche il mondo dei privati ci deve essere una ricerca che deve essere applicata finalizzata ai siti di disinguinamento di quest'area e di collaborazione importante anche con tutto il mondo dell'impresa della piccola e media impresa che è di Taranto per far sì che possa crearsi anche un'opportunità economica in questo territorio San Raffaele futuro è inquietante la regione dica basta e investa quei 200 milioni per il potenziamento del sistema sanitario tarantino la richiesta di fallimento gli accertamenti in corso per il reato di bancarotta le indagini della magistratura su presunte irregolarità un CDA composto da personaggi con un passato poco chiaro le prospettive scaturite negli ultimi giorni per il San Raffaele sono a dir poco inquietanti a parlare Aldo Pugliese segretario generale della UIL di Puglia e di Bari che chiede alla regione Puglia di assumere una posizione chiara e decisa sulla questione relativa alla fondazione che è la colonna portante della rete ospedaliera del San Raffaele e a proposito invece dell'alluvione di marzo scorso una nota del comitato terraioni che è basilicata in via di definizione l'ordinanza con l'accordo tra governo e regione Puglia invece tutto tace risoluzione dell'assemblea del comitato terraioniche di sabato sera è proprio questo si legge nelle conclusioni soddisfatti dell'annuncio dell'assessore Rosa Gentile che conferma la disponibilità di oltre 7 milioni di euro da parte della regione basilicata che si sommano ai 7 stanziati sulla manovra nazionale delusi invece dell'assenza di risposte della regione Puglia e cui cittadini continuano a non avere alcuna prospettiva di soluzioni e adesso invece parliamo di un interessante progetto che viene sempre dalla regione Puglia che mira ad arginare il fenomeno della dispersione scolastica Taranto aderisce al progetto Abreu contro la dispersione scolastica che registra un'elevata incidenza soprattutto nel quartiere Trecarrare Solito il progetto punta a costituire un'orchestra giovanile 30 i destinatari del progetto presentato a Palazzo di Città come si svilupperà il progetto? si svilupperà avrà una durata di tre anni naturalmente il primo anno prenderà l'avvio nel mese di novembre perché stiamo ultimando la messa a norma della struttura nel quale svolgeranno le lezioni che è in via Pisa dopodiché con delle lezioni dimostrative nelle scuole si avvierà la fase di individuazione dei 30 bambini destinatari dopodiché ci saranno due incontri nei pomeriggi settimanali da qua fino alla fine dell'anno scolastico fino a giugno ma se possiamo anche fino a luglio sono previste già dopo i primi mesi di attività delle fasi di output di uscita sul territorio anche nelle altre scuole negli altri quartieri interessati per far sì che la città di Taranto abbia davvero la consapevolezza di essere un'esperienza pilota a livello non solo regionale ma a livello nazionale Assessore dunque il quartiere Tre Carrare è solito quello dove si registra una maggiore incidenza di dispersione scolastica dunque è da lì che si comincerà a lavorare per questo progetto? Sì cominciamo da lì tenendo ovviamente comunque avendo come obiettivo quello di non perdere lo sguardo complessivo sulla città certamente i dati sono quelli oggettivamente resi dall'ufficio scolastico provinciale e di lì partiamo lavoreremo per la prevenzione quindi opereremo con la scuola primaria in maniera preliminare il nucleo di 30 bambini destinatari del progetto potrà allargarsi certo ora siamo in una fase assolutamente iniziale sperimentale andrà monitorato lo seguiremo con molta attenzione però è un progetto in cui crediamo molto io sono molto contenta soprattutto per il risultato ottenuto nel mettere in rete non soltanto tutti i livelli avete visto la presenza della provincia avete visto la presenza della regione ma anche la scuola per eccellenza di formazione e faccio riferimento all'uscio musicale e poi mi ha fatto molto piacere che il comune sia stato letto come interlocutore da parte dell'AMS che è poi il soggetto attuatore del progetto che ha una forte credibilità e credito a livello nazionale e oltre Assessore Godelli questo è un progetto contro la dispersione scolastica insomma bisogna lavorare sin da subito per promuovere la cultura questo è un progetto per la formazione sociale e culturale dei bambini e delle bambine di Taranto a partire dalle zone di maggiore sofferenza la musica è di per sé uno strumento di sviluppo della persona e della socialità ma è anche una prospettiva culturale straordinaria e intanto domattina torna a riunirsi la consulta per lo sviluppo si parlerà di porto la riunione che si terrà come al solito nella sala di presidenza al palazzo del governo è fissata per le 10 e intanto sulla vicenda dell'aeroporto di Grottaglia interviene il presidente della provincia di Taranto Gianni Florido dice l'iniziativa attesa a raccogliere firme per la riapertura ai voli civili dell'Arlotta successiva ad una mozione bipartisan approvata in consiglio regionale sempre sullo stesso argomento si aggiunge alla mobilitazione sviluppatasi negli ultimi tempi per porre fine alla vergogna del non-aeroporto di Grottaglie pochi mesi fa aggiunge Florido incontrammo i rappresentanti dell'Air Italy la compagnia che si dichiarò disponibile ad attivare un volo giornaliero su Roma a Fiumicino avendo peraltro ottenuto una buona fascia oraria per la partenza da Grottaglie e per il ritorno dalla capitale su tutte queste lodevoli iniziative pesa però il fermo posto dalla regione Puglia per bocca dell'assessore Guglielmo Minervini condividiamo ha detto l'esponente della giunta vendola ma non abbiamo un solo euro da mettere a disposizione e intanto è tutto pronto per l'edizione 2011 della giornata del diabete prevista per domani iniziativa coinvolgerà ben 125 associazioni di volontariato provenienti da tutta la regione Puglia sentiamone di più ricorre domani la giornata mondiale del diabete anche la città di Taranto ha organizzato un momento di studio e di approfondimento e lo farà con un convegno che si terrà nel salone degli specchi di palazzo di città alla presenza delle istituzioni locali e di ben 125 associazioni di volontariato provenienti dalla regione Puglia la manifestazione che mira sensibilizzare sulla prevenzione è stata organizzata dall'associazione diabetici ionici è un momento appunto di incontro perché diciamo siamo nella stessa regione ed è bene che ci conosciamo le noi associazioni anche perché essere uniti in un progetto con l'unica finalità senza altro è una forza maggiore sia per il paziente che diventa più sensibile al problema ma anche per sollecitare l'attenzione delle autorità preposte a quella che può essere quella della sanità pubblica tutta la struttura del comune la provincia il ministero della sanità perché i problemi per i diabetici sono problemi importanti è una malattia di interesse sociale grave se non viene curata bene questi pazienti diventeranno nel tempo andranno incontro delle forze delle importanti invalidità che poi dovremo avere tanti invalidi non so se è molto redditizio per lo per lo Stato curare per prevenire piuttosto che stare lì a dare domani pensioni di invalidità vere ricordiamo che l'associazione diabetici ionici a Taranto nasce nel 1983 dunque sono passati ben 27 anni e questo attesta l'impegno di tanti volontari che lavorano con impegno per aiutare insomma chi potrebbe avere una patologia di questo tipo ma quali sono i servizi che la struttura l'associazione ospita l'associazione è iniziata in effetti con un lavoro di un polo ambulatorio ma che non vuole assolutamente sostituire quello che il pubblico la struttura pubblica dà noi stiamo soltanto un piccolo supporto proprio per far sì che il paziente che comincia ad avvertire qualche sintomo non debba aspettare quei 4, 5, 6 mesi per poter avere una visita specialistica per poter avere la visita diabetologica quindi noi disponiamo qui di medici di tutte le branche che volontariamente si sottopongono i nostri pazienti i nostri associati e quando c'è necessità si inviano poi alla struttura pubblica per approfondire quelle che sono la diagnostica delle complicanze stesse quali sono le complicanze che porta il diabete lo vogliamo ricordare a chi ci ascolta da casa dunque le complicanze diciamo più importanti quelle che appaiono sono così più evidenti sono quelle a carico dell'occhio comincerebbe una forma di retinopatia diabetica che basta con un esame del fondus cominciano ad esserci i primi campanelli d'allarme e poi c'è la periferia la parte più importante è prima l'ESA è il piede del diabetico che alcune volte sfugge al medico nel visitarlo nel vedere il piede che comincia con una piccola ulcera che addirittura vanno alcuni incontro ad amputazione dell'arto per fortuna grazie a questo lavoro di impegno di tutte le associazioni non solo della nostra ma anche di altre associazioni di abecce della Puglia che facciamo appunto questo lavoro di prevenzione e allora insegniamo al diabetico a guardarsi i piedi a curarsi i piedi e quindi a fare riferimento a uno specialista che possa essere d'aiuto un'altra parte importante da non trascurare sono gli infarti purtroppo la statistica parla di una grande percentuale degli infartuati sono diabetici e a monte di tutta questa patologia bisogna ricordarsi che l'obesità è un pericolo perché è l'anticamera del diabete diversi operazioni della guardia di finanza tutela della legge sul commercio contestate numerose violazioni fiscali le pattuglie impiegate composte da oltre 30 militari hanno eseguito controlli nei confronti di 50 esercizi commerciali con la constatazione di 30 violazioni per l'omesso rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale mentre sono in corso i necessari accertamenti volti ad individuare eventuali attività commerciali nei cui confronti siano state contestate 4 distinte violazioni per la mancata emissione dei documenti e permettere quindi all'agenzia delle entrate competente l'emissione del provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività da 3 giorni e fino a un mese in base alla recidività del contribuente ancora la cronaca con i controlli questa volta dei carabinieri di Massafra che in due distinte operazioni hanno arrestato in flagranza di reato ben 5 persone si è trattato prima nella notte tra sabato e domenica dei due fratelli Antonio e Ivan Semeraro di 30 e 23 anni che detenevano nella propria abitazione 37 grammi di hashish un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga poi nella tarda serata di ieri invece è stata controllata un'autovettura con a bordo tre giovani di 31, 25 e 21 anni di Ostuni e Cisternino la vettura è stata fermata nei pressi del centro abitato di state anche qui è stata trovata droga in questo caso si tratta di eroina e anche materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza sono intanto le 14 e 24 minuti la linea torna ai colleghi c'è la pubblicità è stata trovata